Lo confesso ho veramente un debole per i prodotti Reolink Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di videocamere per la realizzazione di un impianto di sorveglianza e più nello specifico della nuova CX410A Reolink che è un'azienda che fa ottimi prodotti soprattutto nel ramo videosorveglianza dove ho provato i modelli più disparati per darvi un ventaglio di possibilità nella realizzazione del vostro impianto ma prima di andare a vedere più da vicino questa telecamera da 4 megapixel con audio bidirezionale sensore con apertura f1.0 per immagini più luminose a colori anche in notturna sotto momento supporto lasciate un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella per non perdere nessuna novità ovviamente commentate per farmi sapere le vostre opinioni e seguitemi su TikTok dove ci sono contenuti molto interessanti in meno di un minuto se volete assistenza informatica gratuita o più semplicemente un consiglio scrivetemi su Instagram o tramite il mio canale di supporto Telegram aiuto veramente tutti link sotto in descrizione ma bando alle ciance andiamo a vedere più da vicino questa telecamera questo video è sponsorizzato da Kissfan piattaforma fantastica di cui ho già parlato in un video dedicato il link ve lo lascio sotto in descrizione che ci permetterà di acquistare licenze ufficiali di Windows e Office a prezzi super scontati con il codice JD50 ad esempio potremmo avere Windows 10 Professional a soli 7,59€ o Windows 11 Pro a 13,31€ avendo anche sconti per quantità se ci serve la ISO per l'installazione basta cliccare sul prodotto di nostro interesse e c'è il link per il download semplicemente fantastico abbiamo bisogno di Office? con il codice JD66 potremmo avere per esempio Office 2021 Professional a soli 24,76€ scontato quindi del 66% abbiamo necessità sia di Office che di Windows con il codice JD62 avremo il 62% di sconto su bundle come questo che prevede Windows 11 Pro e Office 2021 tutto a soli 33,99€ i link per l'acquisto li trovate sotto in descrizione dove c'è anche il link con il video dedicato nella confezione oltre ovviamente alla telecamera che è una risoluzione di 4 megapixel quindi registra in 2k 25 fps ed in grado di registrare sia in bianco e nero in notturna utilizzando i classici led infrarossi sia a colore utilizzando questi led a luce calda grazie al sensore con apertura f1.0 poi riuscirà a catturare molta luce permettendoci di avere immagini molto più nitide anche quando le condizioni di luminosità non sono ottimali troviamo poi la certificazione IP66 che ne garantisce un utilizzo in esterna anche con il maltempo troviamo poi il microfono che è anche l'altoparlante abbiamo quindi un audio a due vie e può essere utilizzata questa telecamera anche come interfono è presente lo slot per la microSD non so se si vede ma è qui protetto da questo tappino che impedisce all'acqua di penetrare jack rj45 può essere utilizzato sia per la connessione internet sia per l'alimentazione infatti questa telecamera è poi ovvero power of ethernet che permette di utilizzare un unico cavo sia per andare ad alimentare la nostra telecamera sia per portare il segnale internet abbiamo poi il tastino per il reset e il jack per l'alimentazione rispetto alle altre telecamere la novità che cari amici potete vedere anche voi stessi sono questi tappini che vanno a denotare ancora di più accuratezza da parte dell'azienda sinceramente sono molto contento jack di alimentazione che si usa nel momento in cui non andiamo ad operare un NVR Reolink ho un router POE classico cavo da un metro di rete che è molto utile per l'installazione vista la sua lunghezza più se si vuole configurare la telecamera prima di installarla troviamo poi un sacco di carte che a me sinceramente non piacciono anche se alcune sono utili come questa Dima guida rapida è presente anche l'italiano questi adesivi che ci vanno a comunicare in più lingue che l'aria e video sorvegliata troviamo poi il coperchio impermeabile per andare a isolare il cavo di rete e gli accessori per il montaggio a parete visto cosa c'è all'interno della confezione andiamo a vedere più da vicino le specifiche come già accennato la telecamera è un sensore da 4 megapixel che registra video con una risoluzione pari a 2560x1440 la peculiarità è che è stato adottato un sensore con apertura f1.0 che consente alla videocamera di catturare immagini e colori reali anche in condizioni di scarsa illuminazione visualizzando così dettagli molto fedeli alla realtà telecamera dotata di una luce calda regolabile da 3000 keV può aumentare gradualmente la sua luminosità quando viene accesa contribuendo a ridurre il potenziale inquinamento luminoso e ovviamente il disturbo che si può dare ai vicini nel frattempo la luce aiuta la fotocamera a catturare immagini notturne a colori anche in particolari condizioni di luce la telecamera si presta a molteplici utilizzi e utilizza infatti l'intelligenza artificiale per riconoscere persone, veicoli e anche animali e quando ciò accade riceviamo un avviso sull'app ora mediamente le telecamere che non hanno un sensore dei movimento PIR generano un sacco di falsi positivi ma i risultati ottenuti con questa telecamera mi hanno davvero sorpreso infatti gli avvisi causati ad esempio da insetti, ombre di alberi o qualsiasi altra cosa non sia un umano o un veicolo o anche un animale sono davvero ridotti ai minimi termini il dispositivo sia il microfono quindi oltre alla registrazione video abbiamo anche la registrazione dell'audio davvero molto comodo e anche l'altoparlante e quindi questa telecamera può essere utilizzata come un interfono o un allarme allarme che può essere in caso di rilevamento di un intruso sia sonoro che visivo tramite l'accensione dei LED risoluzione 4 megapixel che raggiunge livelli di dettaglio davvero fantastici soprattutto grazie all'ottimo sensore che vedremo tra poco la nitidezza di notte poi è garantita dai LED ai imprarossi che ci permetteranno una visione notturna fino a 30 metri in bianco e nero in cui è possibile anche impostare la registrazione a colori con l'accensione dei LED a luce calda o impostare una registrazione intelligente la cosa che si nota subito rispetto agli altri modelli è che il sensore più grande fa veramente la differenza quando le condizioni luminose sono al limite per quanto riguarda l'installazione basta un solo cavo collegato all'NVR Reolink o al router POE che appunto con un solo cavo porta sia la corrente che il segnale di rete come potete vedere risparmiamo il cavo di alimentazione con un'installazione più semplice ovviamente anche più economica a riprova poi della sua enorme duttilità solo nelle molteplici opzioni di registrazione infatti possiamo avere la registrazione continua attivata al movimento o in base all'orario tutti i video registrati poi possono essere salvati o su una micro SD dove mediamente 36 ore di registrazione peseranno 64 giga la massima scheda supportata è da 256 giga per una registrazione massima superiore a 6 giorni o su NVR Reolink vi lascio il link sotto in descrizione e ovviamente possiamo anche utilizzare un server FTP veramente fantastico NVR che ricordiamoci è fondamentale se si vogliono gestire più telecamere o se si vuole registrare per più di 6 giorni con l'installazione della micro SD poi abbiamo la possibilità anche di registrare dei timelapse vi lascio delle possibili scelte sotto in descrizione perché cari amici ricordiamoci che le micro SD non sono tutte uguali ovviamente è una telecamera per esterno quindi ha la certificazione IP66 oltre che ha la compatibilità con gli assistenti vocali quali Google Assistant e Alexa dove installata la skill possiamo vedere la telecamera sia sulla Fire TV Stick 4K Max che è l'unica con la funzionalità PIP sia sull'EcoShow ora cari amici vi mostro un po' di riprese in varie condizioni in modo che vi rendiate conto da soli della qualità del prodotto in generale ma anche di cosa dovete aspettarvi in termini di resa delle riprese e dell'audio perfetto perfetto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.